Musica No, non mi fate l'intervista, fate l'intervista a queste No, perché bisogna sapere come raccontarla La novità, la CCL rompe con Renzi Non mi pare una novità, francamente No, non è una novità Di piazza così, con Fassina e gli altri che stanno qua, Renzi di là, ne ho fatto almeno 5-6 Ma è una rappresentazione, è un gioco, le parti No, è il Partito Democratico che funziona così Un gran casino e basta Beh, ma da un po' di anni Ma alla fine si prende il 40% La puntata con Fassina, Orfini, qua, non ce l'ha, io ce l'ho, passate, verrebbe cose vecchie Era sempre più o meno la solita divisione, insomma, nulla di nuovo Quindi è fuffa? No, non è fuffa, è sostanza, però è un problema al tempo stesso Per il Partito Democratico, diciamo E comunque anche per questa gente Che, insomma, ecco, è Nichi Vendola Eh, Vendola... Cerca qualcuno che li rappresenti, insomma E appunto è passato Vendola, è lui che lo deve rappresentare Beh, insomma, diciamo che ci è riuscito in minima parte per ora Grazie Grazie a tutti Grazie a tutti